Amici e amiche di Player Insight, anzitutto chiariamo subito una cosa come premessa per questa top. Nessun gioco seguito di una serie rovina la serie E stessa. Però senza dubbio poi ci rimane il ricordo di quell'episodio non ben riuscito che un po' effettivamente ci rovina il ricordo dell'intera serie. Esatto, quindi questa è una lista di titoli che rappresentano un po' il punto debole di una serie che invece ci è piaciuta tantissimo e è stata bellissima per tanti motivi. Ed è la seconda puntata che facciamo. Cominciamo con Mafia 3. Mafia è una serie che amiamo tantissimo. Mafia 1, capolavoro assoluto, ci è piaciuto tantissimo all'epoca quando uscì. Anche il remake è fatto abbastanza bene. Mafia 2 ci è piaciuto, magari non quanto il primo, ma ci è piaciuto, è un degno successore. Mafia 3, secondo noi, invece no. Non parliamo di un brutto gioco, ma di un titolo a cui non daremo oltre il 7. Si lascia giocare. Quello che rovina il titolo non è neanche il protagonista in sé, perché molti hanno avuto da ridire sul fatto che non avesse nulla a che fare con la mafia italo-americana. Se ve lo giocate, insomma, capite che è collegato un po' alle vicende della mafia italo-americana. Il problema è rappresentato dalla ripetitività estrema del gioco, che vi ripropone sempre le stesse cose a cicli di tre missioni praticamente identiche tra loro alla volta, fino alla fine, e poi anche un'IA decisamente scarsa, oltre che una serie di glitch grafici e bug a non finire, che abbiamo trattato spesso anche nella rubrica Game Fails, che quando sono pochi va bene, quando sono tanti ti fa capire che, insomma, il team non abbia lavorato quantomeno in condizioni ottimali. Passiamo a Mass Effect Andromeda, quindi trattiamo di una serie che io adoro tantissimo, voi sapete che è la mia preferita in assoluto, Mass Effect, la trilogia fantastica. Andromeda, invece, ha un po' calato l'asticella. In realtà si tratta di un buon gioco in senso assoluto, ma non in senso relativo alla serie a cui appartiene. Dal punto di vista della trama ci sono tanti punti deboli, sembra un po' un voler ripercorrere i canovacci che hanno funzionato nella trilogia, ma non riescono a farlo altrettanto bene. Anche dal punto di vista di gameplay c'è un po' di dispersione di energie, con queste attività, queste fetch quest che popolano dei pianeti un po' troppo vasti, un po' inutili queste fetch quest, esatto, non sono proprio al livello delle quest secondarie che avevamo nella serie principale Mass Effect, senza contare i problemi delle animazioni che hanno funestato il lancio del gioco. Sì, un lancio veramente osceno e che abbiamo sottolineato con un video che sostanzialmente era un rage moment nei confronti di quest'opera. Kingdom Hearts 3. Ragazzi avete notato che i tre sono un po' problematici? Eh, diceva Caparezza in un suo album, il secondo album è quello più difficile per la carriera di un artista. In realtà è il terzo per i videogiochi. Per i videogiochi è sempre il terzo. Allora anche qui, Kingdom Hearts 3, non parliamo di un brutto gioco, attenzione come Mass Effect Andromeda e Mafia 3, però rispetto al resto della serie secondo me c'è stato un passo indietro. Almeno dal mio punto di vista forse non giocavo Kingdom Hearts da tanto tempo, però avevo un ottimo ricordo di Kingdom Hearts 2 che mi ha dato tantissimo e mi è piaciuto molto. Kingdom Hearts 3 non mi è piaciuto né dal punto di vista del gameplay, né dal punto di vista della trama e della scrittura dei dialoghi. Ci sono delle circostanze in cui le situazioni sono molto pretestuose, ricordiamo nel mondo di Frozen. Sì, molto deboli ecco. Guarda, quella è passata, l'abbiamo vista adesso per la prima volta, aiutiamola. Ho capito, però chi è alla fine? Ma è il potere dell'amore e del cuore. Il potere dell'amore e dell'amicizia e anche dal punto di vista del gameplay spesso ci si ritrovava a fare button mashing su X. Non solo, anche il level design secondo me lasciava un po' a desiderare, quindi ecco, speriamo meglio per Kingdom Hearts 4. E sempre rimanendo in tema di 3, Dino Crisis 3. Vi dico solo questo, dinosauri nello spazio, c'è il nesso logico. Vabbè, ecco. Per la serie, oh, che ci inventiamo? Eh? A questo punto meglio Exoprimal, no? Che... Esatto, sì. Exoprimal è un po' il Dino Crisis del 2022. Se vogliamo, se vogliamo, ma no. Molti vorrebbero, piuttosto che un nuovo Dino Crisis, perché hanno visto che in Capcom hanno le idee abbastanza confuse su come far proseguire la serie e allora è meglio fare il remake del primo. E sono d'accordo. E sempre a tema 3, Fable 3, ragazzi, di cui abbiamo parlato anche noi da fan di Fable. Abbiamo apprezzato tantissimo l'1, abbiamo apprezzato tantissimo anche il 2. Fable 3 ci ha deluso moltissimo. Doveva portare delle innovazioni, addirittura doveva essere una rivoluzione, secondo la pubblicità che aveva fatto Lionhead all'epoca. Più che altro Peter Molyneux, che si fa sempre la bocca grossa, no? Eh, sì, lui esagerava come sempre. C'era questa novità del tocco, attenzione. Il tocco? E che è il tocco che puoi prendere per mano altri personaggi e te li guarda e preso. Wow! Sì, però magari a volte non funzionava, li lasciava e quelli rimanevano in mezzo alla strada. Ma poi non è che fosse una cosa straordinaria, è che lui voleva comunicare l'empatia. Lui è sempre molto concettuale nelle sue visioni videoludiche. Poi aveva integrato alcune meccaniche degli action che mal si sposavano col tipo di gioco che era Fable. Non solo, prima dell'uscita di Fable 3, che poi alla fine era un né carne né pesce che non prendeva quanto di buono fatto in Fable 1 e, seppur in maniera minore, nel 2, snaturava anche quel poco di essenza GDR che effettivamente Fable aveva sempre avuto. E come l'ha giustificato Peter Molyneux? Con un'uscita delle sue. Ma perché a voi Oblivion vi piace davvero? Voi vi leggereste una storia, un libro di 20.000 pagine? Ma che stai a dire, Peter Molyneux? Ma che stai a dire? Vabbè, rimaniamo sul 3, ragazzi. Non lo so, non è fatta apposta. Questo ce l'avete anche suggeriti molti voi, ragazzi, nella scorsa puntata, ovvero Dead Space 3. Sì, Dead Space 3, anche questo, non è assolutamente un cattivo gioco, però è quello che ha poi decretato la chiusura di Visceral Games ad opera di EA. Ehi, attenzione, non perché Visceral meritasse di essere chiusa, eh. No, attenzione. La grandissima azienda, la grandissima software house. A me a tratti, ecco, ve la dico terra a terra, senza fare l'analisi come se fosse una delle mie recensioni, perché effettivamente sembrava come se prendesse spunto quasi da un Gears of War, piuttosto che dai Dead Space, per come ci aveva abituato soprattutto il primo episodio, che invece aveva quell'atmosfera di tensione e horror che adesso sarà replicata non soltanto dal remake, ma anche da The Callisto Protocol, che vede i protagonisti e alcuni degli sviluppatori che hanno lavorato pure a Dead Space. Quindi, quando si snatura qualcosa, poi diventa difficile farlo piacere al pubblico che ti ha seguito fin lì e si è fidelizzato. God of War è sempre bello, ragazzi, e tra poco arriva Ragnarok, ma ce ne ricordiamo uno un po' meno bello, ovvero Ascension. Allora, su questo però proprio l'abbiamo tirata per i capelli di Kratos, che non ne ha, peraltro, eh. Solo che dal punto di vista... Allora, ve la butto lì, già dal punto di vista della trama, fare un prequel del prequel, fare un prequel del primo episodio. Però, dopo il terzo, con delle vicende di Kratos raccontate in una maniera un po' troppo, forse tenebrosa, un po' troppo criptica per certi versi, è stato più che altro un episodio non particolarmente ispirato, per questi motivi, più che come gameplay in sé. Perché poi, come game design, come gameplay, ha sempre convinto. Ascension è sicuramente l'anello debole di tutto questo. Eh, questo è il punto. Sì, questo sì, questo sì. Impossibile non citare Final Fantasy XIII in questa classifica, perché, ragazzi, Final Fantasy tutti meravigliosi, chi più chi meno, però veramente l'asticella altissima. Ogni volta usceva un Final Fantasy X, i 10 fioccavano a destra e a manca. Anche Final Fantasy XII mi è piaciuto molto. 10-2? Vabbè, sto parlando della serie principale. Arriva Final Fantasy XIII e invece scaga tutto, perché in realtà aveva cambiato alcune cose. Sì, era un po' a corridoio, un po' troppo lineare. Final Fantasy senza città, in cui i negozi erano dei menu. Cioè, veramente si impoveriva tantissimo il concetto di viaggio, che è presente in tutti i Final Fantasy, e quindi di conseguenza si impoverisce anche il modo con cui viene narrata la storia. Ma parliamo anche di un reboot, perché a volte anche i reboot rovinano un po', no? La passione per una serie. E parliamo di un reboot molto recente, Saints Row, che è appena uscito. Noi avevamo grandi attese per questo capitolo, perché avevamo apprezzato Saints Row 3, abbiamo apprezzato Saints Row 4, ci siamo divertiti, ovviamente prendendoli per quelli che sono. Cioè dei giochi che vi devono fare divertire, senza troppe pretese. Che va andata a guardare, che ne so, Scary Movie, vado a noi e Pumer, pensando di guardare David Lynch, è chiaro? Esatto. Invece Saints Row Reboot non ha fatto nemmeno questo. No, perché risultava frustrante a più riprese. Intendiamoci, non è che non sia divertente, ha i suoi momenti, eh? Però è parecchio lacunoso e soprattutto molto, molto, molto vecchio. Eh, questo è il punto, è vecchio. Non è un reboot, è un rifacciamo quello che avremmo sempre voluto fare, già col primo Saints Row, neanche col terzo e col quarto, che erano esagerati e spettacolari di quel quarto, no? Il reboot, invece, mi riprende un po' quelli che vorrebbero essere i fasti del primo episodio, che non ha mai avuto dei fasti straordinari, ma lo fa in una maniera timida, vecchia, con degli stilemi vecchissimi. Altro spin-off di una serie eccezionale, Gears of War Judgment non è all'altezza degli altri capitoli usciti. Però, in questo caso, già ci può stare un po' di più, un po' come per God of War Ascension. Sì, un po' quel tipo lì di delusione, ecco. Un po' quel tipo di delusione, sì, per la serie, eh, ok, è un Gears, così come quello è un God of War. Però, con Judgment, è abbastanza piatto. Definiamolo così, a certi tratti diventa addirittura anonimo, quasi. E poi, soprattutto, non c'è Marcus Fenix. Il più noioso, sicuramente, di una serie che, invece, non ha avuto episodi veramente noiosi. Anzi, è sempre stato straordinario, vi ricordo. L'eccellenza del 2, l'epicità del 3, i momenti toccanti anche del 2 e dell'1, di che stiamo parlando. Judgment sotto questi punti di vista non regge il confronto. Come l'altra volta, ragazzi, suggeriteci qui quali, secondo voi, sono stati dei capitoli deboli di serie che, invece, sono di enorme successo, che sono sempre molto belle. Quindi, mi raccomando, scriveteceli qui nei commenti. E attenzione, perché non è che noi prendiamo i vostri consigli, ci andiamo a cercare e facciamo così, ripetiamo a pappacallo. Devono essere titoli che abbiamo vissuto anche noi. Quindi, tutto quello di cui abbiamo parlato questo oggi è perché si tratta di giochi e abbiamo giocato noi. Ovviamente, noi dobbiamo essere d'accordo. Se siamo d'accordo, ne parleremo nella prossima top. Quindi, mi raccomando, scrivetelo qui nei commenti. L'approvazione è tipo la CMA Britannica Magnus. Esatto. E noi vi ringraziamo, come sempre, ci vediamo alla prossima. Ciao.